Siamo di Policiano e vorremmo denunciare il grande lavoro che il Consorzio di Bonifica Valdarno sta facendo nei pressi del distributore. Inizia così una lettera arrivata alla nostra redazione dove appunto alcuni residenti di Policiano polemizzano sui lavori del Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno. Stanno facendo una cattedrale nel deserto, prosegue la lettera, e dove invece avvenne la catastrofica alluvione del 2019 non sono minimamente intervenuti. Questi buttano via i soldi per niente, stanno bruciando 360 mila euro. Il Consorzio risponde così. È un intervento di Bonifica Montana, per cui non è un intervento lineare su un corso d'acqua specifico, ma è un intervento per rifare un riassetto idraulico di un intero bacino. Per questo va fatto per stralci. In questo momento noi siamo addirittura dal rivo, stiamo terminando il primo stralcio finanziato con l'ordinanza 82, un'ordinanza commissariale avvenuta nel post alluvione 2019 proprio con l'intento di andare a mitigare il rischio nelle aree colpite. Questo primo stralcio è uno stralcio fatto con tecniche di ingegneria naturalistica e va a mitigare il rischio in quest'area specifica. È già previsto e progettato un secondo stralcio, di cui abbiamo già chiesto il finanziamento alla regione troscana nello strumento del DOZ. Sicuramente ci sarà bisogno di ulteriori studi e ulteriori progetti per mettere in sicurezza anche altre zone di questo territorio. È stata fatta un'analisi sul bacino idrografico per individuare le principali criticità. La criticità maggiore era una diffusione incontrollata dell'acqua all'interno dei terreni, in quest'area qui. Il nostro progetto quindi consiste nella realizzazione di due canalette che consentano una canalizzazione controllata di tutta quest'acqua che andrebbe se no a disperdersi nei campi a creare rischio per le case e per le strade. Questi progetti sono stati progettati da professionisti concordati con la regione toscana in un'ottica proprio di insieme, in un'ottica di area, per cui ci sarà bisogno di intervenire per step successivi proprio per sanare una problematica diffusa.